ecco ti cinque libri che non puoi farti mancare nella tua libreria cinque libri musicali a manualetto di songwriting di max greco un libro dove si va a analizzare in modo molto sintetica l'armonia musicale poi come funziona la musica di david byrne dei tolkien ads una panoramica a 360 gradi su come funziona la musica dai contratti le varie tipologie a come si crea una scena musicale come si affrontano le collaborazioni poi abbiamo la musica attuale di massimo bonelli dove va ad analizzare quello che è il contesto attuale della musica quindi lo streaming e come di conseguenza ci si può andare a pubblicizzare sulle varie piattaforme social poi abbiamo l'atto creativo di rick rubin il mitico produttore famosissimo dove qua va a analizzare tutto l'aspetto creativo del musicista ma anche dell'artista in generale e per finire effortless master di kenny warner un libro dove si va a parlare di musica nel senso più spirituale che si è lassare un libro dove si va a parlare un libro dove si va a parlare un